Buongiorno, benvenuti all'appuntamento con l'informazione di Telesense. Apriamo il nostro TV giornale con il 77esimo anniversario della liberazione, nelle cerimonie istituzionali a Ferrara in occasione del 25 aprile, questa mattina in piazza Cattedrale, alle 10 l'alza bandiera con gli onori militari. Poi la deposizione di corone dall'oro al Sacrario dei Caduti per la Libertà alla Torre della Vittoria da parte delle massime autorità delle associazioni partigiane, combattentistiche ed arma, subito dopo la cerimonia ufficiale, con gli interventi del sindaco di Ferrara, Alan Fabri, e del ministro dell'istituzione, il ferrarese Patrizio Bianchi. Cerimonia poi proseguita con una funzione religiosa che si è tenuta nella chiesa di Santo Stefano in piazzetta Sant'Etienne. Ma sentiamo ora il ministro Bianchi e il sindaco di Ferrara, Alan Fabri, ai nostri microfoni. Il 25 aprile è una festa di tutti, di tutta l'Italia, di tutte le fazioni politiche che hanno combattuto contro il nazifascismo. Oggi ho visto una piazza con tante persone, si è risentito ovviamente la voglia di festeggiare questo momento, in questa splendida cornice. Sono stato anche molto contento e orgoglioso di avere la presenza del ministro Bianchi, che non è mai scontata con tutte le cose che deve fare, quindi credo che sia un momento bello per tutta la città. Per la prima volta anche la brigata ebraica. Sì, abbiamo avuto l'onore di avere il labaro della brigata ebraica, è una cosa a cui tenevo molto perché tanti giovani ebrei, italiani e non, combatterono per la nostra libertà e quindi credo che sia per noi motivo di vanto avere la loro presenza qui con noi in piazza. Io credo che il 25 aprile sia giustamente il momento in cui facciamo la storia, ma dobbiamo ricordare anche come con quella storia ci ha permesso oggi di essere di fronte alla tragedia dell'Ucraina attivi. Abbiamo raccolto quasi 20.000 bambini nelle nostre scuole e quindi grazie veramente a tutte le nostre scuole. Ecco, ricordare ai ragazzi l'importanza della libertà. Ricordare la libertà vuol dire ricordare anche la liberazione, cioè la libertà non è un dono che cade dagli alberi, la libertà è una conquista e ricordare oggi che è necessario, ieri come oggi, continuare a volere la libertà vuol dire anche impegnarsi attivamente nella vita collettiva, non solo per non dimenticare, ma anche per costruire qualcosa di nuovo. E tra gli interventi in piazza anche quello del Presidente delle Associazioni Combattentistiche, dell'Ampi, dell'Associazione Nazionale Partigiane d'Italia e della Presidente della Consulta Provinciale degli studenti. Non aver paura del diverso perché porta solo a guerre, a terrore, a paura, a conflitti e di mantenere la pace il più possibile, essere attivi a livello sociale e non permettere a nessuno di violare la propria libertà e non violare la libertà degli altri. Credo sia importante soprattutto la sensibilizzazione attraverso il mezzo della scuola, assolutamente la scuola deve avere un ruolo fondamentale, quasi di attivismo, per sensibilizzare quei giovani che magari non hanno un interesse o non sono informati di queste situazioni spiacevoli. Dobbiamo fare di tutto per evitare che questa guerra, che continua a portare morte, distruzione, fughe da quel paese, dobbiamo trovare mezzi e strumenti di tutti i tipi che abbiano come obiettivo principale la ricerca della pace. Vale a livello di associazioni territoriali, vale a livello di istituzioni, vale a livello di organismi nazionali e internazionali, tutti insieme alla ricerca di questo obiettivo, ma vale non solo per la guerra in Ucraina, ma per tutte le guerre che sono presenti nel mondo. Eventi che proseguiranno per tutta la giornata. Nel pomeriggio ricordiamo che dalle 15 alle 17 in Sala Estense, in piazza municipale, ci sarà la proiezione a ciclo continuo a cura dell'Istituto di Storia Contemporanea del documentario di Carlo Magri Ferrara aprile 1945 dal Reno al Po, un percorso di materiali filmati da operatori al seguito delle truppe alleate che dal Reno arrivarono appunto al Grande Fiume. Poi alle 16 e 15 in piazza municipale il concerto a cura dell'Associazione Banda Filarmonica Comunale Ludovico Ariosto. Alle 17 e 45 in piazza Cantedrale La Maina Bandiera e poi alle 18 in piazza Trento Trieste a cura di Arci Ferrara, Ampi, Museo del Risorcimento e della Resistenza, Liberazione, l'azione teatrale urbana diretta dalla regista Alessia Passarelli con il coro delle Mondine di Porporana. E ieri c'è stato l'esordio ufficiale del Comitato per la Memoria dei Dieci Martiri di Porotto che ha promosso all'interno delle manifestazioni messe in campo appunto dal Comitato Celebrazione 25 Aprile di Ferrara, un percorso della memoria con l'omaggio ai tre cippi che ricordano uno degli episodi più dolorosi della storia della Seconda Guerra Mondiale all'interno della piccola comunità di questa frazione, appunto Porotto, alle porte della città di Ferrara. Qualcuno li definisce momenti istituzionali, ricordi celebrativi delle vittime ed esecrezione di chi si è reso colpevole e complice di ecidi che, come è successo a Porotto, hanno concluso la tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Consapevoli del rischio di finire nella ritualità, Porotto ha dato vita in questi mesi ad un comitato che si è preso l'impegno di far rivivere nella memoria odierna l'ecidio dei dieci cittadini barbaramente uccisi tra il 24 marzo e il 20 aprile del 1945 alla vigilia della liberazione di Ferrara dalla dittatura nazifascista. L'omaggio di questa mattina ai tre cippi che a Porotto ricordano l'uccisione dei dieci giovani antifascisti non ha avuto nulla di rituale. La cerimonia si è snodata lungo un percorso partito dal cipo di via Tagliaferri, posto nel luogo dove il 24 marzo del 1945 furono sorpresi e in parte uccisi, in parte catturati e poi uccisi tre antifascisti, un cittadino di Gallierne bolognese e due di Ferrara. Poi ha fatto sosta presso il cipo di via Ladino, posto al centro del paese, dove fa memoria di queste vicende all'intera comunità e a chi vi arriva di passaggio. E infine al cipo di Fondoreno, fuori del paese, in mezzo ai campi, dove furono barbaramente trucidati sette giovani cittadini di Porotto, pralevati dalla loro casa la sera del 20 aprile del 1945, inermi e inconsapevoli. Nessuna volontà attualmente celebrativa, ma ricordi, fatti e soprattutto emozioni, quelle che scatturiscono dai luoghi del martirio, come ha detto Antonella Guarnieri, storica e componente del comitato, e dalla rievocazione della breve vita di quei dieci ragazzi, cui hanno dato voce alcuni giovani nelle scuole superiori ferreresi, tutti i cittadini di Porotto, ex allievi della Presidente del comitato, Vanessa Rossetti, che ci dice che cosa significa oggi per Porotto la costituzione del comitato stesso. Per Porotto significa ancora, vista la presenza di diverse persone che hanno vissuto veramente quei fatti, significa anche risvegliare un grande dolore, ma significa anche trasformare quel dolore in un insegnamento per le persone di oggi, soprattutto per i ragazzi. Come avete potuto vedere, la novità e il lavoro di quest'anno è stato il coinvolgimento dei giovani che hanno provato a dimedesimarsi in uno di quei dieci ragazzi e mi sembra che ci siano riusciti in maniera egregia. Con loro abbiamo fatto questo breve percorso e quando le ho chiesto di mettersi nei loro panni ho visto che è cambiato qualcosa in loro, sono riusciti a non vedere questi avvenimenti come un qualcosa di lontano e intangibile per loro, senza collegamento con il presente. Quando hanno provato a mettersi nei loro panni hanno sentito questi avvenimenti come ciò che ha determinato in realtà la vita che facciamo oggi e questo credo sia il messaggio principale. Torneremo a parlare del 25 aprile delle iniziative nelle prossime edizioni del TV giornale. Ora il bollettino del Covid, situazione stabile nel Ferrarese come anche a livello regionale dove si registra un calo della pressione ospedaliera. Vediamo. 324 i nuovi contagi nel Ferrarese, casi in media rispetto agli ultimi giorni e nel bollettino emesso domenica non si registra nessun decesso in territori estense. A livello regionale sono quasi 5200 i nuovi positivi, età media 47 anni e circa 4600 i nuovi guariti, 8 purtroppo ed eccessi in Emilia Romagna a causa complicazioni apportate da Covid. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive regionali sono 36, in calo del 2,7% rispetto al bollettino precedente e l'età media è di 66 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti ordinari Covid regionali, sono oltre 1400 le persone, numero invariato rispetto al bollettino precedente, età media 76 anni. Ora parliamo dell'Università di Ferrara, si chiama Ragazze Digitali ER ed è un progetto di orientamento formativo promosso e finanziato dalla Regione Emilia Romagna in collaborazione con diversi atenei della Regione che ha come obiettivo l'avvicinamento delle ragazze all'informazione e alla programmazione per ridurre il divario digitale di genere. Ce ne ha parlato la professoressa Elena Bellodi del Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Ferrara. Sentiamo. Che cosa è emerso da questo incontro? In questo incontro abbiamo invitato la prorettrice all'equità e all'inclusione, la professoressa Zappaterra, la prorettrice vicaria che è ingegnere, la professoressa Lamma e una studentessa di dottorato e una nostra studentessa sempre al Dipartimento di Ingegneria della laurea magistrale. Il nostro intento era nella prima parte mettere in evidenza il fatto che serve ancora nell'ambito dell'ICT, del settore dell'informazione, una componente femminile in ambito lavorativo che è manca. Quindi ci sono tantissimi posti di lavoro, una domanda molto superiore all'offerta e questi posti sono veramente anche per le ragazze. In secondo luogo abbiamo descritto un'iniziativa per la quale sono referente per l'Università di Ferrara che partirà a giugno 2022 ed è sponsorizzata dalla Regione Emilia-Romagna, in particolare dall'assessore Salomoni, è sponsorizzata dall'Università di Ferrara e dagli altri atenei regionali. È un campo estivo che si svolgerà dal 20 giugno all'8 luglio 2022 in tutti gli atenei della Regione nello stesso momento con un percorso laboratoriale in cui le ragazze potranno venire a vedere quali sono le applicazioni dell'informatica e soprattutto realizzare tramite dei progetti seguiti dai nostri tutor delle attività, appunto dei progetti che sono basati per esempio a Ferrara sull'intelligenza artificiale, sull'Internet of Things e quindi che sono diciamo gli off topic in questo settore, nel settore dell'informatica. Il camp prevede anche un percorso seminariale al pomeriggio in cui le studentesse potranno invece diciamo ascoltare delle testimonial che hanno fatto la propria crescita professionale nell'ambito ICT dell'informazione. Questa iniziativa è rivolta a tutte le studentesse di qualsiasi istituto superiore di terza e delle classi terze e quarte. Ora ci spostiamo al Teatro Comunale di Ferrara per una serata speciale, in scena la musica sacra di Vivaldi, protagonista anche Vittorio Sgarbi. Musica e arte hanno riempito il Teatro Comunale di Ferrara con Sacro Vivaldi, nuova produzione originale della Bado, sabato 23 aprile, per San Giorgio, patrono della città. Le opere d'arte scelte da Vittorio Sgarbi hanno dialogato con la musica sacra di Vivaldi, con Federico Maria Sardelli, massimo conoscitore dell'opera vivaldiana, alla direzione del coro e dell'orchestra Accademia dello Santo Spirito. Si tratta di una rinnovata collaborazione dopo il successo ottenuto nel 2021 con il Farnace di Vivaldi, un'altra produzione del Teatro di Ferrara. A impreziosire la serata sono state le voci del soprano Silvia Frigato, del mezzo soprano Aurora Fagioli, del tenore Alessio Tosi e del basso Mauro Borgioni, oltre alle installazioni scenografiche a cura di Lorenzo Cutuli con l'assistenza di Marianna Moreira, il progetto ideato da Marcello Corvino. Il concerto per archi ha introdotto il viaggio nell'arte. Con Vittorio Sgarbi sui temi dello Stabat Mater e del Dixit Dominus, il percorso si è aperto con il Cristo morto di Mantegna. Poi via via tante le opere esposte dal critico d'arte e al coro per il bis finale si è unito anche Sgarbi tra i numerosi applausi del pubblico. Ora ci spostiamo in Pinacoteca nazionale per una mostra dossier per il ritorno di un'opera di Girolamo da Carpi a Ferrara, appunto in Pinacoteca. La mostra aperta il 5 aprile resterà visibile fino al prossimo 25 settembre. Sentiamo a questo proposito la direttrice delle Gallerie Estensi, la dottoressa Martina Bagnoli. L'acquisto da parte del Ministero della Cultura del dipinto raffigurante La Sacra Famiglia di Girolamo da Carpi e intitolato La Sacra Famiglia nel paesaggio, rappresenta il ritorno a Ferrara di un'opera fra le tante che hanno lasciato la città e l'Italia nei secoli. Ma è anche un secondo ritorno in patria dell'artista che, 5 secoli fa, dopo aver lasciato Ferrara per svolgere la sua attività pittorica altrove, soprattutto a Bologna e a Roma, nel 1534 fu richiamato dal Duca Ercole II alla Corte Estense, dove rimase e operò fino alla morte, tranne brevi parentesi romane come artista a tutto tondo. Questo piccolo dipinto di Girolamo da Carpi recupera un tassello importantissimo della vita culturale del Cinquecento a Ferrara, un tassello che era andato perduto nel corso della storia ferrarese e delle collezioni pubbliche ferraresi. È un dipinto che mostra un Girolamo da Carpi particolare, di piccole dimensioni, un quadro di intimità molto classicheggiante e quindi ben completa la nostra rassegna cinquecentesca. Le acquisizioni sono proprio importanti per questo, per continuare ad investire in una ricerca di un periodo storico, ma anche per presentare nuove idee, nuove proposte, magari anche proprio su dei momenti degli studi che si pensava di aver già completamente approfondito. Infatti, come sentiremo anche dalla curatrice di questa mostra, questa acquisizione è al seguito di una pubblicazione, una recente monografia che ha portato alla luce dei quadri che erano andati, delle opere che erano andate, per così dire, perdute e delle attribuzioni a questo grande artista che si erano un po' perse nel tempo. Ecco, quindi in insunto la continua, al continuo accrescimento delle collezioni è necessario per il museo per continuare ad essere un'istituzione viva dal punto di vista dei rapporti col pubblico e dal punto di vista della ricerca. Ora parliamo della camminata della salute, appuntamento che prenderà via il prossimo 5 maggio alle ore 18, l'appuntamento è sulle mura del Torione di San Giovanni, ma cerchiamo di capire perché è così importante muoversi. Presentate oggi le camminate della salute, un appuntamento importante che volge proprio al benessere dei cittadini ferraresi. Ecco, qual è l'importanza dunque di questa iniziativa e del muoversi in maniera corretta? L'importanza di questa iniziativa è fondamentale come strumento di prevenzione a tante patologie che sono correlate proprio con una vita sedentaria, con una vita non di moto e che purtroppo sono sempre più presenti nella nostra popolazione. Perché? Perché viviamo oggi più che mai, a parte il discorso della pandemia, del lockdown, ma anche la quotidianità ci porta a una vita molto sedentaria, che chiaramente tutto quanto riguarda la tecnologia ci ha dato tanto, ma è ovvio che sia nel campo lavorativo e anche non ci porta a una sedentarietà piuttosto prolungata. Ecco dunque che un'iniziativa come questa, che promuove il moto, l'attività fisica e quanto di più auspicabile si potesse avere. Lo sport è per tutti può essere praticato sotto maniera diversa, immagino, da tutte le fasce della popolazione? Lo sport, sì, deve essere per tutti e soprattutto anche l'attività motoria in senso generale. Non è obbligatorio che uno faccia sport a livello agonistico, l'importante è il movimento, l'uomo è fatto per muoversi, per camminare, da quando ci sono le biciclette per andare in bicicletta per nuotare, cioè il corpo umano è fatto per il movimento. Quindi questa iniziativa si innesta nello sforzo di promozione dell'attività motoria in genere rivolta a tutta la popolazione, in particolare a quella sedentaria. È chiaro che noi come Servizio di Medicina dello Sport svolgiamo un'attività clinica di prevenzione principalmente per chi fa sport strutturato dentro società sportive a livello agonistico, ma è molto importante questa azione di promozione anche per il livello non agonistico. Quindi questa iniziativa spinge e rafforza tutto lo sforzo che ci può essere da parte degli enti di promozione sportiva e società sportive per rendere fruibile l'attività motoria, anche quella non agonistica, a tutta la popolazione, anche a quella giovanile. Abbiamo aderito a questa iniziativa da parte dell'organizzato del Cizzo Vita con il patrocinio del Comune per coinvolgere gli studenti dei corsi di laurea in scienze motorie e dei corsi di laurea magistrali in scienze tecniche dell'attività motoria primitiva adattata presso l'Università degli Studi di Ferrara. Gli studenti imparano a gestire tutti i parametri relativi a queste camminate che sono legate naturalmente agli aspetti dell'intensità, del volume, della frequenza, ma anche degli aspetti legati alla sicurezza dei partecipanti a queste camminate e lo fanno in maniera teorica in aula con me, ma avremo l'occasione di farlo in maniera pratica facendo partecipare direttamente anche gli studenti a queste camminate in modo che possano capire con mano e toccare da vicino tutti quelli che possono essere gli aspetti dai più semplici fino a anche quelli più problematici relativi alla partecipazione a queste camminate. Bene, chiudiamo qua il nostro TV giornale. Grazie di essere stati con noi. Arrivederci. Grazie.